Martedì 30 marzo, il weekend non è andato bene, purtroppo a volte succede, abbiamo perso la partita in casa, in malo modo, quindi come nella vita, anche nello sport, bisogna imparare a perdere, prendiamoci la merda, ce la mangiamo e ripartiamo. Prossima storia, vi spiego cosa farò in questa giornata. Oggi under 16, ultima settimana per loro e poi ci sarà qualche settimana di pausa, under 18 e prima squadra. Allora, l'under 18 fa 4 esercizi fondamentali della palestra, ovvero panca, rematore, squat ed RDL. In super serie hanno sempre un esercizio di core e di controllo. In questo vlog sto usando questa configurazione qui della serie, in cui fanno una serie per 10, aumentano il peso, una serie per 8, aumentano ancora il peso, una serie per 6 e finiscono con una serie per max ripetizioni con il peso utilizzato in quella da 8. E' una progressione carina che mi sta dando buoni risultati. Dai, duro, duro, metti il nome, più dritto, più dritto. Under 18, scheda ipertrofia quasi un po' verso la forza, alcune serie, abbiamo 6 colpi, per il resto invece alte rep e carichi abbastanza alti. E con un po' di tristezza che dico che questa è la 36esima e ultima settimana della serie A, 36 settimane di fila di allenamenti con 22 partite di campionato e 3 amichevoli dentro. Direi che la stagione è stata bella, importante. L'ultima settimana hanno ipertrofia molto molto tranquilla, parte alta, parte bassa, 3 blocchi e poi finiscono con 2 blocchi invece di esercizi di prevenzione, infortuni soliti, spalle, core, collo, eccetera. Direi che stagione! No, no, no. No, no, no.